bentornati amici il filtro che andiamo a vedere oggi proseguiamo ed è dark strokes ovvero tratti scuri adesso aspettiamo che che carichi l'immagine eccoci qua come possiamo vedere nel momento che andiamo a ingrandire vediamo che sono stati aggiunti dei tratti sono state aggiunte delle vere e proprie pennellate che siamo sempre comunque nell'ambito di un filtro che va a simulare l'inserimento di una trama che potrebbe essere pittorico artistica andiamo a vedere che abbiamo un balance quindi tra i chiari e gli scuri se lo portiamo a zero se portiamo tutto a zero in realtà non abbiamo l'immagine originale perché abbiamo comunque l'inserimento di di questo questa sorta di effetto movimento infatti se lo spegniamo vediamo che l'immagine originale era ben diversa e più ricca di dettagli adesso lo riattiviamo e cerchiamo di capire che cosa fa sicuramente nel momento in cui aumentiamo l'intensità dei bianchi e dei neri stiamo aumentando il contrasto a dismisura mentre la lunghezza dei tratti rimane pressoché invariata quando andiamo ad aggiungere l'inserimento del balance possiamo gestire il passaggio tra i bianchi e i neri e quindi andiamo di fatto a diminuire il contrasto è un effetto che può regalare qualche soddisfazione anche se comunque come sempre non lo vedo molto bene applicato a un'immagine perché non va a fare altro che sfumarla quindi renderla un pochino più pittorica e un pochino meno fotografica personalmente non è la direzione che cerco di intraprendere quando faccio della post produzione sicuramente può essere utilizzato per ottenere degli effetti tipo dipinto si può si può usare per cercare di ricreare un effetto van gogh o cose del genere anche se non è l'effetto più indicato per questo tipo di effetto ne vedremo altri più avanti